Io sin da piccolo sono sempre cresciuto solo con mia mamma e tipo mio papà l'ho visto una roba come 5-6 volte così tutta la mia vita. Mio padre non l'ho visto anche perché comunque lui ha avuto tanti problemi anche nella sua vita, mio papà è finito in galera, ha comunque avuto anche la sua vita. Si fanno degli sbagli nella vita però c'è sempre tempo per capire quello che hai sbagliato.